Non è ancora ufficiale, ma Roberto Renzulli, oggi nostro ospite, sarà il prossimo consigliere comunale nei banchi dell'opposizione per la Tripalda, Bene Comune. La notizia è stata diffusa proprio dalla sua collega, Nunzia Battista. Quando avremo l'ufficialità di questa staffetta? A giorni stiamo preparando tutti la documentazione, perché Nunzia ci ha permesso, mi ha dato questa opportunità e l'ha comunicato la settimana scorsa al direttivo e a me il giorno del direttivo non ero sorpreso, però di vera e verità sono contento che Nunzia abbia deciso, abbia fatto questa decisione per permettermi di fare un'avventura bella, quella di essere rappresentante in consiglio comunale anche da parte del gruppo. È giusto fare esperienza, ha detto lei, è giusto portare avanti il programma che aveva famo e dare anche giusto un futuro al movimento civico per il prossimo avvenire, perché il nostro progetto inizialmente era Tripalda, Bene Comune e 2032, che è giusto per le due legislature e le due amministrative fino al 2032. Lo ringrazio ancora pubblicamente Nunzia per tutto il lavoro che ha fatto in consiglio comunale e per la scelta innanzitutto del gruppo che aveva chiesto a Nunzia di prestarsi in questa avventura, l'ha fatto in modo coraggioso ma anche puntuale e tutto quello che abbiamo lavorato l'ha portato in consiglio comunale e ci ha rappresentato al meglio. Senta, qualche giorno fa sulla pagina Facebook di ABC, proprio a sua firma, è apparso una nota polemica sul bando dell'ACM per le nuove assunzioni che recitava così. Strano, dal 23 settembre sul sito della società ACM è pubblicato un bando per assunzione, eppure sulla pagina social del Comune, quella del sindaco e quella del suo vice, si vedono solo foto di inaugurazioni, pizze, partite di terza categoria, matrimoni, giornate spensierate in barca, bruciate, eccetera. A proposito di questo, volevo leggere cosa dice la Treccani, che cos'è un bando, perché si parla di trasparenza, ma io direi anche di poca trasparenza. Bando, sostantivo maschile, annunzio di interesse pubblico, in antico letto dal banditore, oggi resa noto tramite pubblicazioni su organi ufficiali, con avviso a stampa o con altri mezzi di informazioni visibili a tutti, bando di concorso. Allora, la etimologia, quello che dice il dizionario, vale in tutta Italia, ma evidentemente da tre parte non ha valore, perché questo bando è stato pubblicato come il precedente, perché ce ne sanno altri precedentemente, da quando è nata l'azienda comunale multiservizi. Loro hanno creato una pagina a parte, informaticamente un gruppo a parte di questa azienda, che ripeto, a tutti i cittadini, è pagata con il 100% dei soldi dei contribuenti, né in una rita in più, né in una rita in meno. Qua non ci stanno soldi di privati, o di assessori, o di sindaci, per cui noi dovremmo ringraziare tutti quelli che stanno nella municipalità, tutti pagati da noi. Questo bando, come quelli precedenti, in realtà hanno fatto bene a non pubblicarlo su tutti i siti, hanno fatto benissimo, perché non è rivolto a tutti, è un bando rivolto a chi già sta in una municipalizzata, a chi già svolge un lavoro o l'ha fatto da poco, a chi già è stato assunto in un ente con queste qualifiche, ripeto, sono quelle del vigilino, quello che sta al cimitero con i microfiche e poi l'altra, quella delle pulizie come operaio nella municipalizzata. Non è stato pubblicato, quello che abbiamo detto noi, sulla pagina ufficiale del Comune di Trapalda, cioè una pagina che chiama Comune di Trapalda, né in quella di Paolo Spagnolo, sindaco del Comune di Trapalda, e nemmeno nelle loro pagine personale. La polemica che facevamo noi, che poi non è una polemica, loro la chiamano polemica e sterile, ma noi facciamo una precisazione. La pagina è seguita da qualche mese, non più dall'addetto stampa del sindaco, che veniva pagato personalmente dal sindaco, in quanto lui aveva seguito la campagna elettorale del sindaco e del gruppo del sindaco, pagato dal sindaco. Da qualche mese il sindaco se l'è tolto, diciamo, dal suo portafoglio e ce l'ha affibbiato a noi, dice guardate questo è bravo, questo è meglio che ci sta. E allora invece di darlo, di pagarlo, è giusto che lui faccia un lavoro per il Comune, per tutto il Comune, noi siamo d'accordo, secondo me è la persona più capace per fare questo lavoro, ma visto che lo paga il cittadino e visto che lo paghiamo a noi, deve gestire la pagina del Comune, ed è un dipendente del Comune, di Atripalda, tutti gli effetti categoria C, ci stanno nelle determini e le delibere fatte, dipendente del Comune Atripalda, noi come ABC, gruppo di opposizione, gruppo di minoranza, proprio per quel ruolo che abbiamo di vigilanza e di controllo su tutto quello che viene determinato e su tutte le spese del Comune, possiamo dire anche la nostra. Per noi il lavoro di questa persona, di questo addetto stampa, non è stata fatta al punto, cioè lui il 26, il 23 è stato fatto il bando su questa pagina che non è conosciuta, ripeto, questa pagina non è seguita solo dagli addetti ai lavori. Allora il Comune, visto che conosceva già questo problema, che non tutti sapevano di questi bandi, doveva pubblicare questo bando anche sulla pagina social del Comune e su quelli istituzionali e dire guardate, andate sulla pagina dell'ACM perché l'abbiamo messo in bando, oppure allegare il tutto e metterlo sui social e metterlo su tutti i siti, come fanno tutti gli altri, perché si tratta di bando, non si tratta di documento relativo e personale a quell'azienda lì, ma di un bando aperto a tutti. Così si pensava, aperto a tutti no, perché poi siamo andati a vedere di aperto solo a chi ci lavora, a chi ci lavora, si tratta di persone che hanno avuto già una formazione e la formazione che qualcuno già l'ha fatta, qualcuno ha fatto anche la certificazione e qualcuno già l'ha fatta e anche la certificazione di andare al cimitero o fare i vigilini, qualcuno già l'ha fatta e queste certificazioni, queste formazioni sono state fatte presso il Comune di Mercogliano, laddove ci sta Presidente dell'ACM, il Vice Sindaco, c'è Domenico Landi. Non ci sembra strana questa cosa, è pure giusto che abbiano una qualifica e una formazione per poter lavorare, però è pure giusto che lo sappiano gli altri che il bando sia aperto anche agli altri. Adesso non so se chi farà questo bando, qualcuno farà un esposto, qualcuno renderà noto se questo bando si poteva fare in questo modo, io non ho mai fatto un bando, ci sono dei professionisti che vengono pagati, qua c'è il rappresentante, l'amministratore dell'ACM che avrà fatto il bando, l'avrà letto, l'avrà scritto, sa più o meno che sono le condizioni, non so se questo tipo di bando è davvero un bando o è una certificazione per chi ha già lavorato o sta lavorando nel Comune di Atripalda, perché è aperto per una trentina di persone, tanto è vero che dicono che dopo le 30 persone saranno costrette a fare un altro modo. Allora, invito è, quelle persone che hanno ancora la fiducia in questo Comune, che credono ancora che il Comune possa risolvere qualche problema, di fare la domanda, di andare in quel sito e di dire io non ho le qualifiche, non ho la formazione, io non sono nato, ho già formato, e di chiedere se è possibile partecipare a questo bando e di poter fare questa formazione, di avere questa certificazione. Oppure di dire guardate il bando come è stato fatto, è da annullare, è da rifare. Questo io non lo so, dovete vederlo voi che fate concorsi tutti i giorni, però vi ripeto, come è stata organizzata questa cosa, non è stata fatta bene dal Comune e dall'addetto stampa.